Posso dire del debito che ne ho le scatole piene di vedere migranti che buttano per terra il cibo? Io mi sarei un po' stancato di questo. Basta. Perché è successo a Caorle, succede in altri posti. Questi signori che dicono di arrivare dalla fame, dalla guerra e da chissà quale altra situazione di disagio, arrivano qua e buttano per terra il cibo. Io mi sono un po' stancato di questo.